Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'immigrazione non gestita, non controllata, non pianificata, l'immigrazione massiva evidentemente condiziona in maniera estremamente negativa gli stati che subiscono perché l'immigrazione va controllata, proprio perché se tu non controlli l'immigrazione, l'immigrazione la subisci e rischia di travolgere le dinamiche dei singoli stati. Gli avvenimenti che avete raccontato dimostrano quindi e di cui avete parlato confermano il fatto che il tema immigrazione torna ad essere centrale, torna ad essere centrale il Mediterraneo, il Mediterraneo centrale in modo particolare, le rotti Tunisia e Libia che sono quelle che tocca in modo particolare il nostro paese, il Mediterraneo orientale e il Mediterraneo occidentale, le rotti del Mediterraneo orientale e del Mediterraneo occidentale. Se voi vi dovesse capitare di andare in due paesi, uno è Roccella Ionica e l'altro Santa Maria di Leuca, no, toccherette con mano condizioni assolutamente drammatiche che non hanno mai visto in passato. Se andate sul confine con la Slovenia, oggi potete toccare con mano come il flusso migratorio dai Balcani, in modo particolare via terra, è tornato ad essere imperante, anche perché il nostro paese, e non si capisce perché, a differenza di quello che fa la Francia con l'Italia, cioè le cosette riammissioni informali, il nostro paese, il nostro governo, e mi auguro che possa velocemente cambiare questo tipo di importazione, ha bloccato a seguito di una sentenza del Tribunale Civile di Roma sulla vicenda di un pakistano che parrebbe essere stato poi, ovviamente sconfessato da un punto di vista giudiziario, piccato dalla polizia. Questo fatto poi ha portato alla sospensione delle riammissioni informali e quindi a un riacutizzarsi di un problema immigratorio in ingresso per quanto riguarda soprattutto la Slovenia. Di quello che accade tra la Bielorussia, la Polonia e la Lituania, ovviamente ne avete già parlato, di quello che accade tra la Spagna e il Marotto, in modo particolare nelle enclao di Seuta e Melilla, abbiamo toccato con mano anche quest'anno un rigurgito di immigrazione gestito dagli spagnoli, direi in maniera totalmente opposta rispetto a come l'abbiamo gestito, cioè bloccando, addirittura respingendo i minori, spacciandoli per rimpatri, è meraviglioso. Cioè il rispingimento del minori con il governo socialista. Quello che accade tra la Francia e l'Inghilterra nel canale della Manica è un altro esempio ovviamente non virtuoso di gestione tra due stati del fenomeno migratorio, con il ministro inglese dell'interno che sta adottando delle politiche in cui vuole mettere addirittura l'ergastolo per il trafficante e il carcere per chi entra illegamente nel paese. Ci sono casi clamorosi come ad esempio la Danimarca, la social democratica Danimarca che addirittura hanno in corso una proposta di legge per esternalizzare le domande d'asilo. La Danimarca sta facendo un accordo con il Ruanda affinché le domande d'asilo di coloro i quali dovrebbero fare domande d'asilo in Danimarca usano il Ruanda come terra proprio per e quindi l'esternalizzazione della domanda d'asilo in un paese ovviamente che può essere solo un paese terzo ma ovviamente un paese di partenza o di transito del fenomeno dell'immigrazione. E quindi questo per dire che cosa? Che ovviamente il tema dell'immigrazione torna e un paese come il nostro che è ovviamente uno dei cinque paesi che si affacciano sul Mediterraneo, uno dei cinque paesi del 5 Med evidentemente più di altri toccano, subiscono, patiscono il fenomeno immigratorio anche e soprattutto se le politiche di contenimento del fenomeno stesso ovviamente non sono particolarmente incisive. I numeri, lo dico senza alcun problema, i numeri del nostro paese sono numeri drammatici sotto vari punti di vista non è drammatico solo il 60.000, siamo ormai alle soglie del 60.000 supereremo abbondantemente i 60.000 sbarchi nel nostro paese ma di questi 60.000 sbarchi ci sono due numeri che devono far riflettere uno di questi 60.000 sbarchi, 42.000 sono i sbarchi autonomi il barchino che arriva, 8.000 sono sbarchi da ONG nel 2019, a settembre 2019, quando si conclude l'esperienza di Matteo Salvini come ministro dell'interno gli sbarchi da ONG erano a 500. Le ONG tornano ad essere padroni del Mediterraneo in questo preciso istante ci sono alcune ONG ovviamente straniere le quali in questi anni si sono rafforzate, strutturate e potenziate anche perché non trovano nessuna contrapposizione rispetto alla propria azione di intervento le ONG sono tornate a svolgere quel fattore, ad essere pull factor fanno da calamita ad essere fattore di attrazione di nuova immigrazione negli ultimi 5 mesi abbiamo avuto 38.000 sbarchi in Polonia sono entrati 8.000 migranti in tutto quest'anno nella Lituania da luglio ne sono entrati 4.000 quindi capite bene 38.000 sbarchi in 5 mesi nel mese di agosto noi abbiamo avuto 10.200 sbarchi nel mese di luglio 8.300 sbarchi gli ultimi 3 mesi 7.000 sbarchi netti quindi capite bene io tra l'altro mi permetto di dire che a differenza di quello che ha detto anche un importante ministro noi abbiamo 60.000 sbarchi con la pandemia la pandemia come tutti sanno ha limitato la mobilità quindi senza pandemia senza pandemia e con queste politiche noi oggi avremo numeri ben superiori rispetto ai 60.000 ma avremmo soprattutto numeri ben superiori a 60.000 se la guardia costiera libica non avesse salvato fermato circa 30.000 migranti quindi i numeri ci porterebbero a quei numeri del 2017 i famosi 119.000 sbarchi del 2017 ministro Minniti che sono sicuramente meglio rispetto ai 180.000 sbarchi del 2016 o i 170.000 sbarchi del 2015 ma sono sicuramente un'enormità rispetto agli 11.000 sbarchi del 2019 quando guarda caso caso, fortuna, destino, fatto non lo so vuole che il ministro dell'interno era Matteo Salvini le prime tre nazionalità di sbarco sono paesi lo citavo prima Gaiani i primi tre paesi di sbarco sono Tunisia, Egitto e Bangladesh tre paesi sicuri in nessuno di questi tre paesi ci sono guerre, persecuzioni e torture la Tunisia è paese sicuro per definizione al netto delle difficoltà al netto dei problemi governativi al netto della crisi economica e della crisi politica che è stata appena superata ma che comunque ha portato una instabilità evidente la Tunisia è inserito per un decreto che è stato partorito all'epoca del ministro Salvini nella lista dei paesi sicuri gli 8.000 minori stranieri non accompagnati sbarcati oggi nel nostro paese rispetto ai 4.000 dell'anno scorso rappresentano un problema rappresentano un costo rappresentano un costo soprattutto per coloro i quali poi il fenomeno dell'immigrazione lo devono gestire cioè i territori, le comunità, gli enti locali questi 8.000 minori stranieri non accompagnati che ovviamente non possono essere respinti e rimpatriati come tutti noi sappiamo diventano poi oggetto di gestione e quindi con costi che evidentemente poi ricadono sulle comunità locali sulle comunità territoriali un'immigrazione non gestita un'immigrazione non regolata come è stato detto diventa ovviamente motivo per alimentare quelle tensioni quei disagi sociali che evidentemente in un momento come questo cioè di emergenza sanitaria economica sociale o di fuoriuscita da un'emergenza economica e sanitaria sociale evidentemente rappresentano un ulteriore campanello d'allarme per la gestione delle comunità locali questi sono alcuni numeri con i numeri degli sbarchi che aumentano abbiamo un altro dato che purtroppo segna un aumento ma è un aumento negativo che sono le morti nel Mediterraneo che è l'esatta conferma di quello che noi abbiamo sempre sostenuto cioè più partenze più morti più sbarchi più barche partono più barchini partono più barconi partono ovviamente gestiti dalla criminalità organizzata più facile è l'incidenza purtroppo che gran parte di questi barchini fattiscenti carichi, stracarichi ovviamente gestiti dalla criminalità organizzati dai trafficanti secondo le logiche i criteri ovviamente non virtuosi di chi gestisce questi fenomeni maggiore è il tasso di morte e di dispersione nel Mediterraneo le 1300 morti nel Mediterraneo soprattutto nel Mediterraneo centrale che si contano oggi sono ovviamente l'altro campanello di allarme di un fenomeno che se non viene controllato ovviamente porta problemi sotto tutti i punti di vista a un aumento degli sbarchi non c'è stato e tocco il tema del rimpatrio non ci sono stati un aumento dei rimpatri anzi ad agosto io non ho il dato aggiornato ad oggi ad agosto al 15 di agosto noi avevamo 2000 rimpatri tendenzialmente l'Italia fa tra i 7 e gli 8 mila rimpatri tocca l'apice dei rimpatri nel 2018 2018 su 2019 con Salvini ministro siamo poco più di 2000 rimpatri saremo tra i 2005 e 3 mila rimpatri ad agosto eravamo 1000 rimpatri di tunisini quindi 15 mila ne sono entrati e 1000 sono stati rimpatriati quindi vuol dire che anche da questo punto di vista il tema degli accordi anche sulle politiche di rimpatrio e sugli accordi bilaterali sulle politiche di rimpatrio evidentemente vanno ovviamente riviste il presidente del consiglio ha posto il tema e quindi credo che vada dato atto al presidente del consiglio in più occasioni di aver posto in maniera seria e compiuto il tema di immigrazione soprattutto alle istituzioni europee è affermazione di settimana scorsa alla conferenza a Parigi sulla Libia una affermazione assolutamente condivisibile cioè che questi flussi migratori sono diventati insostenibili e quindi l'Europa deve fare di più e quindi faccio una riflessione sull'Europa e tiro una conclusione del motivo per cui io ritengo a questo punto che a fronte di un'inerzia e di un fallimento e di un'incapacità della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa inevitabilmente la risposta a un fenomeno globale come quello dell'immigrazione non può che essere una risposta nazionale il presidente del consiglio il 18 di febbraio in occasione della fiducia alla Camera e al Senato sull'immigrazione dice tre cose assolutamente condivisili primo che bisogna trovare un punto di caduta un punto di sintesi tra il principio di solidarietà e il principio di responsabilità ovvero tra la responsabilità degli stadi di primo approdo quindi Italia, Spagna, Grecia, Malta Cipro quindi alla responsabilità deve corrispondere la solidarietà da parte delle istituzioni europee solidarietà tradotta con il principio della distribuzione col principio della redistribuzione richiamando l'accordo di Malta del 2019 redistribuzione che non funziona innanzitutto perché non si gestisce un fenomeno redistribuendo clandestini non è che distribuendo in Europa immigrati illegali tu risolvi il problema e gestisci questo fenomeno ma soprattutto il tema della distribuzione fallisce i numeri i mille che sono stati alla fine rimpatriati che sono stati alla fine distribuiti tra le potenze tra gli altri paesi europei gran parte dei quali già distribuiti da Salvini ministro il tema della distribuzione non funziona esattamente nel momento in cui se è vero come è vero che per i paesi di prima prodo il fenomeno dell'immigrazione tocca soprattutto le migrazioni primarie è esattamente vero che per i paesi come può essere la Francia come può essere la Germania l'Olanda l'Austria esiste un problema di immigrazione legato ai movimenti secondari cioè tutti coloro i quali sbarcano nel nostro paese non vogliono rimanere nel nostro paese e si dirigono verso altre mete e sono soprattutto le mete comunitarie e centrali quindi il principio della distribuzione non sarà mai applicabile esattamente nel momento in cui altri paesi hanno il fenomeno delle migrazioni secondarie come elemento primario della gestione del fenomeno migratorio alla fine se noi dovessimo distribuire in Europa quelli che ci sbarcano e l'Europa ci dovesse ridistribuire i dublianti che sono sbarcati in Italia ma che sono andati in Europa alla fine il conto per il nostro paese sarebbe sarebbe ovviamente un conto negativo quindi il principio di equità e di sintesi tra solidarietà e responsabilità non è stato trovato sempre in quell'occasione il Presidente del Consiglio disse che era necessario e doveroso l'approvazione del cosetto patto per l'asile per le migrazioni patto che non è stato approvato e che se venisse approvato sarebbe delettere per il nostro paese perché non ci sarebbe il superamento di Dublino la responsabilità ricadrebbe e continuerebbe a ricadere sui stati e sui paesi di primo approdo anzi rischieremmo con le nuove incombenze legate allo screening all'identificazione che tutti gli oneri ricadrebbero sui paesi di primo approdo e in modo particolare su quei paesi di primo approdo che non hanno delle politiche contenitive rispetto all'immigrazione perché se la Grecia ha delle politiche di contenimento il rispingimento o il regolamento e la disciplina dell'utilizzo della funzionalità delle ONG sul proprio territorio con degli albi regolamentati gestiti con una tracciabilità dei flussi economici finanziari tutto questo non c'è nel nostro paese e quindi tutto ricadrebbe ancora sulle spalle del paese di prima approdo più prossimo al Mediterraneo stesso il terzo punto che venne citato anche qua non applicato è la centralizzazione dei rimpatri cioè una centralizzazione a livello europeo nella gestione dei rimpatri cosa che non è accaduta e quindi a fronte del non mantenimento da parte delle comunità e delle istituzioni europee di questi precisi impegni a fronte del fatto che la distribuzione non viene applicata a fronte del fatto che ad esempio la responsabilità del paese di bandiera per quanto riguarda le ONG non viene applicata a fronte del fatto che la rotazione dei porti a livello europeo non venga applicata perché gli unici porti che ruotano sono i porti ovviamente italiani diventa assolutamente facile capire come come la non risposta europea a un fenomeno globale ed europeo come quello dell'immigrazione porta inevitabilmente ad altri scenari negli ultimi due consigli europei ci si era presi l'impegno nel consiglio europeo di giugno nell'ultimo consiglio europeo di ottobre si era preso l'impegno di stilare un piano economico un piano Marshall un piano economico di sostegno soprattutto nei confronti dei paesi Libia da un lato Tunisia dall'altro lato per inglobare all'interno di un aiuto di un sostegno di natura economica la gestione dei flussi migratori questo non sta accadendo l'Europa guarda con interesse nel dare i soldi alla Turchia a Erdogan giustamente per pubblicare i flussi migratori sulla rotta balcanica non ha lo stesso interesse non ha la stessa esigenza ad affrontare in maniera serie e compiuta quello che accade nel Mediterraneo e quindi se un fenomeno globale come quello dell'immigrazione non trova una risposta globale negli organismi internazionali non trova una risposta europea negli organismi comunitari la risposta rimane una risposta nazionale come la Francia difende le frontiere a Ventimiglia come la Danimarca delocalizza le domande d'asilo in Ruanda come la Spagna difende le frontiere con i militari come l'Austria mette 500 militari sul confine così il nostro paese si difende come? si difende con i muri no c'è chi costruisce i muri fisici e quella è una scelta e io credo che la soluzione non sono i muri c'è chi costruisce invece degli argini giuridici il decreto sicurezza i decreti salvini adottati in modo particolare col divieto di ingresso sosto e transito delle navi straniere perché rappresentavano un rischio perché cariche di immigrati illegali rappresentavano un rischio per la sicurezza e l'inculumità e l'ordine pubblico del nostro paese non è un muro fisico non si utilizza il filo spinato non si utilizzano le barriere ma si utilizza il diritto si utilizza la legge si utilizza il provvedimento normativo votato dal Parlamento per contenere per bloccare un fenomeno migratorio quindi io credo che se così continuerà ad essere cioè ad una assenza a un'inerzia e a una mancanza di volontà politica o di incapacità da parte delle istituzioni europee di poter dare una risposta compiuta al fenomeno migratorio la risposta non può che essere una risposta nazionale e quindi io vedo come risposta nazionale una riedizione una rievocazione un ritorno a quelli che sono stati quei decreti che hanno dato segnali importanti di un paese serio di un paese che difende non solo i confini ma che difende l'identità nazionale e la dignità del paese grazie a tutti